Jean Bachelet contro Anne Arendt. Perché la rivoluzione americana ha funzionato e perché la rivoluzione francese non ha funzionato? In verità la tesi di Jean Bachelet non è tanto relegata alla rivoluzione americana e al rapporto tra l'evoluzione americana e l'evoluzione francese. Questa è una connessione che poi farò io. Però voglio fare questo confronto perché l'Arendt, partendo da Arendt, dice che la rivoluzione francese non ha funzionato rispetto a quella americana per il semplice motivo che secondo Arendt l'Europa era una situazione di povertà. Cioè secondo Arendt, al di là da un lato che negli Stati Uniti e comunque terra americana poi si sviluppò, cioè tutto il tema della schiavitù e che invece in Europa, per esempio in Francia in questo senso, c'erano tutto il tema dei privilegi eccetera. E qua Arendt per esempio nell'opera sulla rivoluzione non è molto interessata al tema dei privilegi, al di là che comunque lei si confronti con questi, ma in verità si concentra propriamente su quella che lei chiama questione di necessità. Cioè secondo Arendt in verità la rivoluzione francese perché non ha funzionato? Perché partì per i presupposti giusti, cioè sulla base della libertà politica, però non funzionò non tanto per l'assetto politico in sé, ma probabilmente perché l'assetto politico in sé non era accompagnato da un supporto di stampo economico. Al di là, attenzione, secondo Arendt è dei privilegi, quindi per Arendt l'Europa si stava sempre più impoverendo e quindi in questo senso se la rivoluzione francese, per esempio Francia appunto in Europa, protagonista peraltro della storia europea, dell'età moderna, inventrice, quella che inventò lo Stato, ecco lo Stato moderno in questo senso. Ecco, secondo Arendt la questione di necessità, la questione della povertà portò poi le diverse realtà politiche appartenenti alla rivoluzione francese a non supportare più il senso politico e quindi a disperdersi e poi a seguire fondamentalmente i loro interessi di stampo particolare. Da questo punto di vista poi Arendt dice, è per questo che poi in certo qual modo arrivò Robespierre e quindi in questo senso poi si arrivò anche poi a un nuovo potere di stampo positivo. Quindi Arendt non è molto interessato in questo senso al diritto e alla rivendicazione di un qual certo diritto realista sul diritto positivo del fallimento della rivoluzione francese, inteso come certo giuridicamente la rivoluzione francese partì dal presupposto di abbattere il sovrano però poi ritornò in Napoleone come per esempio delinea Paolo Grossi, dando proprio un'analisi di stampo filosofico giuridico. Secondo Arendt la rivoluzione francese non è funzionato, non ha funzionato perché l'Europa si stava sempre più impoverendo, mentre invece la rivoluzione americana ha funzionato per Arendt perché? Perché per esempio la terra americana era una terra relativamente nuova rispetto appunto al periodo delle rivoluzioni della rivoluzione americana stessa e della rivoluzione francese al periodo del diciottesimo secolo perché appunto ricordiamo scoperta dell'America del 1492 di Cristofano Colombo eccetera e quindi scoperta che poi secondo gli storici segni all'inizio dell'età moderna. Quindi secondo Arendt ecco questa terra era relativamente nuova quindi poi sì lei dice per esempio no perché c'erano anche gli schiavi eccetera fa tutta questa analisi sulla schiavitù ma questa poi è a parte perché poi Arendt dice certo è vero che loro avevano gli schiavi eccetera però per Arendt in fin dei conti questa terra era comunque evidentemente secondo lei molto più ricca rispetto in questo senso alla realtà del continente europeo. Quindi secondo Arendt in tal senso per esempio la situazione americana perché i padri fondatori poterono agire in modo più semplice perché avevano più ricchezze quindi non avevano problemi di stampo economico cioè quando secondo Arendt l'America è nata gli Stati Uniti sono nati. Gli Stati Uniti intesi come dobbiamo fare una politica si svilupparono probabilmente sulla base di quella politica perché perché non c'era la causa la questione di necessità di stampo economico cosa che invece l'Europa aveva visto. Quello che invece attenzione dice Jean Bachelet è un qualcosa di un po' diverso perché l'analisi di Bachelet è un'analisi di stampo economico pratico cioè secondo Bachelet in verità la politica è una conseguenza dell'economia cioè secondo Bachelet non si può partire da come parte l'Arendt sulla base della politica come questione della causa di necessità perché l'Arendt in verità certo che prende l'economia in certo qual modo come causa della politica però in fin dei conti per Arendt l'Europa era povera. Ecco invece Bachelet cos'è che dice in verità l'Europa aveva preso ad essere ricca secondo Bachelet ed anzi in certo qual modo si stava sempre più arricchendo probabilmente grazie a quella competenza quella concorrenza che aveva imparato ad apprendere in particolar modo già attenzione all'interno dell'antica Grecia questo lo dico io però anche nel periodo dell'età medievale cioè Bachelet dice l'Europa si è dovuta confrontare all'interno dell'età medievale con una situazione da un lato è vero di crisi per la caduta dell'impero romano ma già in realtà nel primo periodo anche prima del 476 d.C. in periodo data della caduta dell'impero romano d'Occidente l'Europa già era una situazione di confronto con qualcosa di nuovo che stava avvenendo e in fin dei conti con una decenitalizzazione di stampo politico al di là di poi quello che fu per esempio l'Europa anche il sacro romano impero eccetera però il tema è proprio questo perché perché dalla caduta dell'impero romano d'Occidente al di là che l'impero romano d'Oriente rimase in piedi la cosa importante è probabilmente questa cioè il Medioevo per esempio fu un periodo molto lungo che però vide in verità a una situazione di pluralismo maggiore sulla base appunto anche delle situazioni di stampo politico e queste situazioni poi portarono secondo Bachelet la stessa Europa a dover competere e questa competizione di stampo economico di stampo politico portò in fin dei conti l'Europa a capire che cos'è la ricchezza quindi attenzione secondo Bachelet il capitalismo inteso come anche modalità di arricchimento viene fuori da un lato dalla concorrenza di stampo politico dall'altro dalla concorrenza di stampo economico che aveva capito alla politica che in realtà l'economia è la base su cui si fonda in verità poi la premessa politica quindi secondo Bachelet appunto non si può parlare di situazione della rivoluzione francese per esempio rifacendomi la rivoluzione francese come un decadimento della questione di necessità perché perché secondo Bachelet in verità l'Europa aveva capito come arricchirsi sulla base appunto della storia in se stessa e sulla base anche della decentralizzazione politica non è un caso che lo stesso Bachelet dica attenzione tutti coloro che hanno provato poi a unire l'Europa totalmente hanno fallito e hanno prodotto guerre prodotto guerra intestina è lo stesso modo in cui Bachelet a un certo punto va a dire è interessante notare come in fin dei conti da dopo la crescita dell'impero romano le diverse realtà plurali abbiano trovato abbiano dovuto trovare degli espedienti di stampo economico anche per confrontarsi tra loro dunque in realtà secondo Bachelet magari la problematica e qui appunto collego io la rivoluzione francese con Bachelet la problematica della rivoluzione francese non è tanto una problematica di stampo economico in sé per sé quanto una problematica di stampo politico cioè non è che la terra in Europa era cominciata a diventare povera no è che a un certo punto non tornava più il rapporto politico con l'economia cioè si vede che da un certo punto di vista il problema giuridico si palesava quindi non è che l'economia e la scarsità portavano a un problema giuridico no no è il problema giuridico che portava alla mancanza di comprensione dell'economia che in realtà il medioevo per certi punti di vista secondo Bachelet aveva fatto intuire infatti non è un caso che la stessa Francia fa nascere lo stato moderno e questo è un punto cioè il fatto che secondo Bachelet la Francia faccia nascere lo stato moderno inteso come anche potere giuridico accentrato in un sovrano porta in verità quella comprensione del capitalismo medievale inteso come competizione tra comunità pensiamo anche alle stesse realtà italiane come in verità fattore che fece secondo Bachelet portare a un nuovo tipo di diritto il diritto della sovranità e assimilare anche l'economia in quel tipo di diritto quindi in questo senso il diritto partiva dal presupposto che l'economia era relegata poi al sovrano assoluto e quindi per Bachelet la rivoluzione francese per esempio secondo l'ottica di Bachelet non è tanto decaduta perché in Europa non c'era da mangiare in generale non c'era abbastanza non c'era abbastanza risorse se no no è perché propriamente per esempio era un problema di stampo giuridico cioè per Bachelet in questo senso per esempio l'economia francese non riuscì a supportarsi perché in questo senso furono gli stessi sovrani a sviluppare male questa economia a disperdere il denaro a creare privilegi a creare monopoli a negare la concorrenza ed ecco perché secondo Bachelet in verità l'evoluzione francese nasce la rivoluzione francese nasce per questo motivo e decade rispetto all'evoluzione americana per questo motivo perché perché la risposta politica degli Stati Uniti in fin dei conti è la stessa risposta politica che il medioevo ha dato alla realtà europea decentralizzazione del potere ma non già come la realtà europea intesa come decentralizzazione reale del potere in già inteso come in Europa nel medioevo in generale c'erano tante realtà di stampo politico che per esempio competevano si facevano concorrenza ma già per esempio anche a partire dall'antica Grecia ma secondo Bachelet gli Stati Uniti hanno un po' ripreso questa idea della competizione della concorrenza riproponendola però sulla base del federalismo questo è interessante perché perché in questo senso la competizione federale si rifà al tema anche delle peculiarità locali che competono tra loro per riuscire in questo senso a restare libere politicamente e quindi lasciano libertà anche di impresa e d'azione in senso economico quindi secondo Bachelet in fin dei conti questo sto cercando di farlo io più che cioè questo senso cercando di fare i collegamenti Bachelet parte dal presupposto che l'economia intesa come libertà che la politica le dà è fondamentale quindi la rivoluzione americana probabilmente ha funzionato al di là della schiavitù per il semplice motivo che gli Stati Uniti furono capaci di applicare e saper usare quelle risorse che avevano ma sulla base di una decenzializzazione del potere ed è lo stesso motivo attenzione per cui Alexander Spooner dice beh attenzione cioè è da un lato sono due cose scisse cioè un conto è l'economia e il monopolio un conto è la schiavitù però attenzione in realtà sono due cose che si collegano perché perché negare l'economia per il monopolio e negare la libertà individuale per la schiavitù sono la stessa cosa attenzione quindi in realtà noi non possiamo pensare che la schiavitù e il monopolio siano corretti e giusti no no la schiavitù è sbagliata e il monopolio è sbagliato inteso come negazione della concorrenza da un lato è sbagliato negazione della schiavitù dall'altro lato è sbagliato punto ecco perché in questo senso secondo Bachelet in verità gli Stati Uniti riuscirono a fare quello che fecero per il semplice motivo che basarono i loro rapporti in stile anche di decentralizzazione politica in senso di un rinnovamento probabilmente dello stampo medievale o dello stampo dell'antica Grecia rivalutato da un punto di vista appunto di una politica moderna della divisione del potere ma anche della divisione dei territori come la polis greca che in realtà aveva visto poi nella Svizzera il suo grande successore in fin dei conti la Svizzera è il stampo medievale che si basa appunto sulla differenziazione comunitaria ciao